Il programma del venerdì dell'Ipodromo del Savio offre ampio spazio a spettacolari sfide per velocisti anziani, giovani emergenti e regala in apertura di serata il sempre intrigante appuntamento con i due anni. La Tris, evento clou della serata, si svilupperà sui 2000 metri a pratenza con l'autostart. 12 binomi al via ed una intricata trama tattica, questa la fotografia del clou di giornata, con i migliori confinati in seconda fila e chiamati ad inseguire un lotto di aggueriti avversari che si danno battaglia sin dalle prime battute di gara. Sarà lotta aperta per la leadership tra Alissa Trio, Amelie Pan e Ariel, la prima con Marco Stefani e le avversarie rispettivamente guidate da Salvatore Valentino e Davide Di Stefano. Dalla seconda fila, Azimut Grit con Roberto Vecchione e Argento Jet con Vincenzo D'Alessandro Junio saranno i veri competitor alla pari di Amurabel, sulla quale sarà l'emergente Tommaso Gambino e di Anastasia che Alessandro Gocciadoro in trasferta a Scandinava affida al suo vice Federico Esposito. Alle 21, 12 esponenti della leva 2018 apriranno la serata con Callisto prima scelta dopo il brillante esordio nel quale giunse secondo. La chiusura alla settima con i tre anni e una buona occasione per vincere per la prima volta in carriera per Brasbus Rocket, Botte et Toile e Belen Bye Bye.